siamo ad abano in uno spazio speciale si chiama magazine 900 qui la mostra di seneca love all is around andiamo a vederla per un attimo ho pensato che seneca fosse lui anche questa sua nuova mostra seneca continua il suo percorso di esplorazione del volto femminile magazine 900 noi l'abbiamo definito il luogo dei sensi è uno spazio che fonde arte musica e motori e con seneca il nostro artista emergente vogliamo dimostrare questo seneca un artista che continua a parlare d'amore con le sue donne con i suoi colori con le sue frasi come quella che dice l'amore è un'amicizia impazzita buongiorno mattino